Altro colpo di scena nella travagliata stagione del Piedimulera, si dimette Giancarlo Boldini, torna Davide Tabozzi. Dopo appena quattro partite il tecnico ex Stresa lascia l'incarico. Così torna Tabozzi che ha guidato la squadra fino al K.O. per 1-0 contro la Pro Settimo, prima di venire esonerato. Eredito una situazione uguale ed identica a quella che aveva lasciato il 22 ottobre scorso, perché nel frattempo i punti sono rimasti due in classifica. In realtà Boldini nella sua gestione avrebbe raccolto un punto, ma la questione ambrosiana ha consegnato un 3-0 a tavolino agli Orizzonti United, che sul campo erano stati bloccati per 0-0 dal Piedimulera. Domenica in trasferta con il Borgo Vercelli, perciò siederà in panchina Davide Tabozzi. Quando abbiamo appreso delle dimissioni di Boldini, che stimiamo per la professionalità e soprattutto per la grande schiettezza e sincerità dimostrate, avevamo due strade da prendere, spiega il presidente Beniamino Tomola. O cercare un nuovo allenatore, oppure richiamare quel tecnico con cui ci eravamo separati qualche settimana fa, semplicemente per dare una scossa, non per demeriti o divergenze di pensiero. Pertanto oggi non ci sono stati tentennamenti né da parte sua né da parte nostra. E poi Tomola aggiunge con orgoglio, È innegabile che stiamo vivendo un momento di difficoltà, ma pur essendo bersaglio di critiche e derisioni gratuite, continuiamo a sostenere di aver fatto cosa giusta in estate a presentare la domanda di ripescaggio. Ricordiamoci che Piedimulera è un paesino di 1.600 abitanti e che nella storia magari non sarebbe mai più capitato un'occasione del genere.